Ancora grazie per l'invito, sono molto indietro di essere con voi, anche se quando vengo qui a Castellavare sono sempre animato da un sentimento dubbio, uno di scopo, perché vedo che ci sono così tante cose da fare che non ce la faremo mai. Dall'altro lato invece di soddisfazione nel vedere che qui c'è, per me, è molto fermo, c'è un grande entusiasmo civico, ci sono delle strutture e delle istituzioni che possono collaborare in un comitato, ho molto apprezzato anche l'impegno di l'ambiente, nonostante che quello sia stato accompagnato qualche problema, sempre, però devo dire che il risultato è stato molto positivo e sono tutti segnali di un grande interesse, di una grande partecipazione e di un grande senso civico che quindi lascia sperare le possibilità di veramente insieme di fare qualcosa. Io ho l'idea che quegli obiettivi che tu ti hai presentato sono obiettivi di tutti, sono obiettivi della sua intendenza, sono obiettivi di comune, sono obiettivi di tutti i cittadini di Castellamare. Penso che forse solo insieme si può veramente riuscire a realizzare qualcosa e sono per una partecipazione quanto mai ampia a tutte le attività che la protezione, la organizzazione, la organizzazione del patrimonio richiede e quindi sono molto lieto se anche nella protezione e anche nella progettualità che si ha una condivisione da parte di tutti.